GENTILI ASPIT Il comandante e il suo equipaggio vi danno il benvenuto a bordo Augurandovi di trascorrere una piacevole traversata Informiamo che il personale della reception è a vostra disposizione 24 ore su 24 Grazie per aver scelto DJ Takmas Oh jazeker, ma'n dat mag allemaal It's the best musical way Playtime radio DJ Takmas DJ Takmas DJ Takmas Gentili ospiti, il comandante e il suo equipaggio vi danno il benvenuto a bordo Augurandovi di trascorrere una piacevole traversata Informiamo che il personale della reception è a vostra disposizione 24 ore su 24 Grazie per aver scelto DJ Takmas Buongiorno a tutti ragazzi, com'è? Tutto bene? Tutto a posto? Si sente? Mi sentite in radio ragazzi? Ciao ragazzi, ciao! Buongiorno, siamo un po' alti? Regoliamo i volumi, grazie Allora, com'è andata questa settimana, questo fine settimana? Com'è andata? Andata bene, andata male, andata bene, andata male, andata bene, andata benissimo Com'è andata? Dicetelo, dicetelo, madonna Ditelo il radio qui su Radio Playtime con Black School hardcore Allora, andiamo a sentirci, andiamo a sentirci i noiosurpressors Sursors, noiosurpressor Allora, andata bene, andata bene, andata bene, e Grazie a tutti 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 è troppo alto vi ricordo con questa melodia molto tranquilla di dottor Peckock molto tranquilla mi rilassa molto allora vi ricordo su www.radioplaytime.it è veramente bellissima questa musica non siete d'accordo con me? potete guardare la diretta su facebook su hardcore di JTAC Mas oppure sentirla benissimo su su Grazie a tutti. 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 a tutti.